Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come vi avevo detto poco fa, anzi no, stamattina vi ho fatto la parte 2 perché è entrato un fan gioco in casa mia e il bevero ora io voglio fare questa prova vedendo se se ne va la casa a me i miei genitori ancora non fanno nulla comunque lascio questa, anzi no, questa la lascio così così a me non se ne va da quella così a me non congiare che qua ci sono 40 gradi di freddo mamma! quando è bravo ci sono oggi fuori? boh, secondo me ci guarda se voi l'andate a vedere di là non si nasconde ma se ne va perché vede la porta aperta se ne lo vanno tutta l'altro che corrono a me ok, andiamo a vedere qui in giro ovviamente non la sbalango perché questo ne posso comprare altri fantasmi e perciò la lascio così avvotata ma non l'angato perciò se voi vedete qualcosa avvisatemi come stoppate il video e avvisateli commenti perché io non vado in grado di fare il capicesso se vuoi richiamati capicesso se va di là esce fuori ma non si racconta perché non lo vedo perché io vado sempre a me, c'è una porta il controllo, il video, il video se vuoi che vado pure da me non non vado sempre a me, c'è una porta ok se vuoi rimbano a dopo se vuoi rimbano a me, c'è una porta dove vado? qua dove? anzi me ne vado arrivederci ma questo non è un attimo, è un attimo ciao Grazie a tutti. Allora che cos'è sto coso? Che cos'è? Che cos'è? Allora, me ne sono andato via la casa vostra. Ma questo non è... Ma questo... Allora, me ne sono andato via la casa vostra. Ma questo non è un'azio, ma è un arrivederci. Ciao. E vede, raga. Me ne sono andato via la casa vostra. Ma questo non è un'azio, ma è un arrivederci. Ciao. No, non ci posso credere. Ancora. Vabbè, però almeno... Forse tornerà tra un anno o almeno così. Tra un mese. Almeno sto un pochino in pace e posso fare i video tranquilli. E non così. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Vabbè, almeno... Sì, se n'è andato. Se n'è andato. Ma l'è? Ma l'è? Aspetta, questo chiamo il mio fratello. Io gli do la notizia perché lui non sa nulla. Il mio fratello è portato qua. Ma l'è? Ma l'è? Ma l'è? Ma l'è? Se n'è andato via il tuo andasma? Eh? Non sei felice? Io morso. Oh, ma l'è? Non sei felice. Non sei felice. Il tuo amico ti voleva pure uccidere. Ha detto, ti ucciderò. Oppure se solo me o solo te diceva, ti ucciderò. Invece no, ti ucciderò. Oh, mio Dio. Corretto? Il mio fratello è mortato e infatti ha chiuso anche la porta. La mia è gentile. Però quando era il primo anno, perché c'era? Vabbè. Queste lettere ora mi posso strappare finalmente. Forse sono loro la maledizione. Aspettate che io me la prendo. Sogniamo altre non la patata. Perché non c'è nulla. Niente non c'è. Aspettate che le prendo. Anche non c'è nulla. Comunque, non solo così tanto felice perché sono felicissima, però non tanto perché qua c'è scritto non è un azio ma è un arrivederci, perciò arrivederci, tipo che vieni di nuovo qua. Stavolta non ti faccio venire più, stavolta mi chiudo, mi chiudo a casa, anche se mi sciogli, mi chiudo, mi metto dentro il frigo, così me non è più caldo, ok, queste sono giuste nel lettere. Giovedì dovete scappare, ormai ho scappato più. Sì, sono contenta. Mamma, poi per favore le raccogli queste carte. La mamma non sa niente del fantasma, ma papà. La bianca è gioia! Alleluia, alleluia, alleluia. Ok, però dopo dopo pulire gli danni. Alleluia, non sapete fare che sono felice, però sono più triste perché non era di... perché è un arrivederci. Sì, siamo! Alleluia! Alleluia! Sì, siamo! Alleluia! Alleluia! Sì, siamo anche qui questa meraviglia che me l'ha mandata. No, siamo! Alleluia! 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 Sì, siamo! Alleluia! 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 Che cosa di questa? Alleluia! 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 Ora sagliela, con dove c'è scritto more. Alleluia! Ma ce ne è ben tante, madonna, raga! c'è questa che abbiamo trovato in lunedì poi questa vi ucciderò poi questa qui bevinate cosa sono con questi segni e poi questa qui io ti vedo ma tu no vabbè bla 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 o meno vabbè ok mamma lo devo poter dire io gli danno sono felicissima ma non tanto perché faccio il mio avvio ma non so perché nella telecamera mi vedo mamuchina oh cosa perché c'è papà sono pazza ora ritorno con voi fatemi dare un abbraccio sarà andato grazie a voi abbracciatevi vabbè non cambiamo non cambiamo vittoria perché ecco non è un avvio ma è un arrivederci non sono quel sistema lo stesso a me non mi lascio un maca in pace si cambiamo vittoria ok c'è un pezzo dove c'è scritto un maca pezzo maio che bello ma vittoria non cambiamo la coppa perché non possiamo nemmo addio si andiamo a buttare tutta sta roba che già sono passate si è finito da tirare giù andiamola a buttare e ci vediamo domani che facciamo un video bello tranquillo stavolta a domani sono felicissima ma non quando perché questo non è un addio dunque a domani bl 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 Grazie.